bella ragazzi qui sapete 4 r siamo tornati su passata tv in questa nuova guida trofei di baria dlc vengeance oggi vi mostro come ottenere il trofeo dolcetti prima di tutto dovrete bloccare il l'eroe ovvero il personaggio che sarà rinchiuso dentro la prigione a cui poi in seguito dovrete dare i dolcetti per fare ciò appunto dovete prendere la chiave posizionata davanti accanto alla prigione e quindi bloccare la scella della prigione poi una volta dentro bisognerà prendere l'alcol e darglielo per bloccare la porta una volta quindi che l'eroe sarà fuori dall'edificio dovrete andare a cercare i dolci i dolci saranno posizionati saranno dentro il negozio appunto dei dolci che appunto serviranno 750 crediti per aprire la porta del negozio e quindi puoi cercare i dolci che sono posizionati sopra ogni barile i punti sono tre dell'offpone sarà comunque molto facile trovare i dolci o comunque se in caso non li trovate potete anche comprarli al costo di mille crediti poi una volta presi i dolci quindi in basso a destra che comparirà l'icona dei dolci andate dall'eroe e dategli i dolci e così facendo avete avrete bloccato il trofeo trofeo molto facile quindi la guida finisce qua un video molto veloce e niente ragazzi ci vediamo con la prossima guida bella